La felicità! Gabri tutto bene! E che rabbia, e che rabbia! Lo spegniamo per il viaggio? No, dobbiamo tenere acceso? No! Veramente una musica pazzesca, amore. Pensa 8 ore di volo con questa cosa. Che dici, lo spegniamo? No, perché è una ninna nanna. No, amore, non è una ninna nanna, no, amore. Tira su una mano se sei anche tu in aeroplano. Avvito insuperabile anche oltreoceano. Vi bacio, ciao!